Il ripacandida di mister De Stefano si impone di misura, grazie al guizzo di Asante ad inizio ripresa, contro un tenace e volitivo moliterno ben messo in campo da mister Masullo. La partita non è stata certamente entusiasmante, ma il gioco offerto dalle due squadre è stato tutto sommato accettabile, visto che entrambe le compagini non hanno ancora trovato la giusta forma. Discreta la direzione di gara del signor Lorusso di Potenza e dei suoi due assistenti arbitrali. Parte subito all'attacco ripacandida al terzo minuto sul lungo langio di La Morte, Scavone di testa smarca in aria Calderoni, che solo davanti al portiere manda incredibilmente sul fondo alla sinistra di quest'ultimo. Risponde il moliterno al decimo con una punizione di Ruocco dei venti metri che termina di poco fuori alla sinistra di Propato. Ancora Ruocco pericoloso al diciannovesimo quando ci prova con un tiro dal limite sinistro che Propato blocca. Alla mezz'ora azione locale insistita sul versante sinistro con lo maestro che serve in aria Carderoni, che agganciato da un avversario cade e si guadagna il giusto penalty. Dal dischetto si presenta lo specialista Pietragalla, che però sbaglia colpendo la parte bassa della traversa. La sfera ritorna in campo e la difesa ospite riesce a liberare. Il moliterno ci prova al quarantatresimo quando, sull'angio di Paniagua, Nakanibiu fa velo per Ruocco, che entra in aria da sinistra, salta in Slalom il diretto avversario e tenda un tiro al volo che Propato blocca sul primo palo. Il primo tempo si chiude con un tiro cross da sinistra di Lovecchio che la veglia blocca senza problemi. Nella ripresa il ripagandida passa in vantaggio all'ottavo, quando su una punizione dal versante sinistro battuta da Pietragalla è asante a trovare la deviazione a rete in mischia per il vantaggio bianco-verde. Il moliterno si vede al dodicesimo, quando su un fallo laterale da destra di Pecoraro, Pascuzzo prima e Nakanibiu poi fanno sponda per Paniagua, che appena in aria si libera al tiro dal limite destro sfiorando il primo palo. Ancora Paniagua si rende pericoloso al vendesimo, quando con una punizione di venticinque metri sfiora il sette alla destra di Propato. Passa un minuto e il ripagandida ci prova con una punizione da sinistra di Pietragalla che la veglia respinge. Va vicino al pari il moliterno al ventisettesimo, quando da un lungo fallo laterale battuto da Iodice da sinistra, si accende una mischia in aria piccola, sulla quale gli avanti rosso-blu non ne approfittano e la difesa di casa spazza via scongiurando pericoli. L'ultima azione della gara è di marca ospite, quando da una punizione da destra battuta da Paniagua, Sanseviero si gira in aria mandando però la sfera fuori bersaglio. Al tripice fischio finale il ripagandida può festeggiare una vittoria importante, onore al moliterno che esce sconfitto ma a testa alta, per aver tenuto testa i più quotati avversari per tutti i 90 minuti di gara.